Con il piatto sgombro con cipolla labruzzese la signora Pina Di Marzio vince questa prima rassegna enogastronomica trofeo il principe azzurro dell'Adriatico al ristorante La Rete di Pescara. Siamo con il presidente di giuria, nonché vicepresidente della giunta regionale Emanuele Imprudente. Che gara è stata? È stata una piacevolissima sorpresa, una piacevissima gara. È stata la gara della semplicità, della tradizione, dei valori familiari, dei valori del nostro mare, di un'identità forte. L'occasione è il principe azzurro dell'Adriatico, l'OP della piccola pesca dell'Adriatico che hanno messo a disposizione questo prodotto del nostro mare e sapientemente articolato con una serie di piatti che poi è stata un po' la gara che hanno fatto con le tradizioni. L'identità forte dell'Abruzzo, in questo caso, che prende un valore che è il nostro presce fresco dal nostro presce fresco cucinato con le tradizioni delle nostre mamme e delle nostre nonne accompagnato da quello che è un po' l'Abruzzo del vino da quello che è il valore dei nostri prodotti tipici dell'agricoltura abruzzese nella fattispecie del vino. Ma per entrare nello specifico questo sgombro con cipolla abruzzese cosa ha avuto di più rispetto al secondo piatto, vale a dire il pesce spada alla pizzaiola? Ma guardi, eccezionali entrambi, non so, forse può essere più un aspetto estetico ma non il valore, la qualità e il sapore. Probabilmente esteticamente nella combinazione sarà stato il valore aggiunto perché la qualità dei nostri prodotti è unica e sapientemente cucinato dalle nostre mani delle nostre donne abruzzese. Quindi credo che sia stato più un aspetto estetico perché era uno dei punteggi diciamo così che partecipavano e concorrevano a dare l'agricoltura finale.